Una partita di Coppa, però sicuramente non è da sottovalutare perché giochiamo contro l'Avellino e sappiamo che comunque è una partita sentita e poi comunque è una competizione a cui teniamo. Poi il mister farà le sue scelte in base alla partita di domani, però siamo consapevoli che comunque arriviamo da un momento non positivo e quindi anche la Coppa ci può dare fiducia per il proseguo del campionato. Sicuramente arriviamo, come ho detto, da un periodo non facile perché comunque abbiamo fatto due punti in quattro partite e quando si gioca a Foggia sono pochi. Quindi dobbiamo assumerci ognuno le proprie responsabilità e sapere che dobbiamo fare qualcosa di più perché quello che abbiamo fatto in queste quattro partite non basta. Secondo me, se andiamo a analizzare queste quattro partite, ci sono state col Benevento, abbiamo fatto una buonissima prestazione contro una squadra forte, a Crotona abbiamo fatto un ottimo primo tempo, però poi dopo ci sono state Picerno e Sorrento dove dovevamo fare di più. Quindi da lì dobbiamo capire gli errori che abbiamo commesso per cercare di non ripeterli più nelle prossime partite e sapere che quando si gioca per il Foggia bisogna fare ogni partita il 100%. Fare qualcosa di meno non basta e quindi dobbiamo, come ho detto, assumerci le proprie responsabilità e sapere che dobbiamo fare qualcosa di più.